Potremmo dirti che la nostra Robiola è fatta con cura artigianale, con latte fresco, che il suo gusto tipico è inconfondibile. Ma quello che vogliamo dirti davvero è perché la facciamo ancora così. Perché ci sei tu, che non rinunci ad essere ciò che sei. Robiola Osella è fatta così. Fattorie Osella, quel buono che abbiamo dentro. Fattorie Osella è fatta così.